Ristorante Franco Rossi, dove vive l'eredità dei grandi cuochi rinascimentali. Dal 1975, nel cuore di Bologna, Ristorante Franco Rossi accompagna i suoi ospiti nella scoperta della cucina bolognese. Luci soffuse e accoglienti sale, che regalano un'atmosfera unica, capaci di farti sentire a casa. Piatti freschi e prelibati, realizzati con ingredienti selezionati e di stagione, ti aspettano per farti assaporare un menù che abbraccia tradizione e innovazione, con un servizio di prima scelta. Dal Ristorante Franco Rossi troverai una fornitissima enoteca, con vini provenienti da tutta Italia e oltre 300 etichette selezionate. Da Franco Rossi, i maestri del gusto guidano i loro ospiti nella scelta di piatti raffinati, gustosi e mai banani. Ristorante Franco Rossi, dove vive l'eredità dei grandi cuochi rinascimentali.